E grazie alla bellissima Easy Cap che io e l'altro giorno abbiamo preso, è finalmente tempo del nuovo It's Time To... Durududu! Durududu! Avviamo sto schifo va! Il bello è che me l'avete pure consigliato in molti, ma chissà perché! Sarà mica perché fa schifo! Ovviamente no, è il miglior gioco di Yu-Gi-Oh! Per la Wii tra l'altro, quindi una console che ha fatto la sua parte di storia. Quindi vi aspettate un gioco bellissimo, magari con i duelli turbo, le carte magia velocità, mondo velocità e tante altre belle cose. Sì e no! Penso che la sigla possa dirvi tutto. Sì ok, ha già rotto le balle. Creiamo subito il nostro file di gioco e ci chiamiamo... Sì decisamente così. Quanto sono scomodi i controlli. Sì va bene questo nome, grazie. Negro! Oh mio Dio questa... Che colori! Mi stai tentando tanti... Sì. Ah dobbiamo anche dare un nome alla nostra Corridore D. Non ho dubbi su questo. Perfetta. Modalità storia. Il duello turbo è un tipo di duello vincente che prevede i giocatori e la guida di Corridore D. Come grande fan, il tuo sogno è quello di onorare quel parco spettacolare vivendo satellite e le tue possibilità di diventare... Alp! Eh, la tua Corridore D è finalmente pronta. Allora cercherai di partecipare al campionato We Will Break, eh? Proprio come gli usei, vero? Eh, sai così? Allora devi prima diventare il campione dell'arena virtuale. Sai, se vincerai anche i residenti esterite come noi potranno andare a City per esibirsi all'appunto... Segui il tuo sogno, un primo assaggio della battaglia. Ciao! Che cosa vuoi, Nenerottolo? Non ti ricordi, l'altro giornetto che mi avresti dato un terminale virtuale come ricompensa per tutte le parti di Corridore D che ti... Ok. Alp, non farti battere da questo tipo. Eh, ok. Vedete che non sto capendo un attimino. Ah, che boiata. Ehi... Pesca del destino, ci mettiamo a guerriere l'Ottames. Come faccio a pescare il guerriere l'Ottames dell'Extratech? Ok. Inizio gara. Ho paura. Chi vincerà e chi invece non ce la farà. Rimanete sintonizzati perché questo è un avvenimento da non perdere. 3, 2, 1... Via! Ed ecco a voi Winnie Branker! No, aspetta. Si usa... Oh... Ok. Non sto capendo. Però sto vincendo. No. Come si guida? Non si può guidare sto coso. Io intanto sto guidando in retromarcia. Big Rig, sei tu? Oh no! Eeeh... Ah! Buongiorno. Scusi! Si fotta! Perché è quello che si fa nei duelli, oh minchia! Ah... 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 Toh! Yeeeh... Yeeeh, l'ho mandato a zero life points. Ora sono fortissimo. Però non curva! Non curva! Yahoo! Finisce la gara così. Da sborone. No, no, no. Ancora finita. Meeeeeerda. Non davanti. Non davanti. Aia. Non sembra, ma è inguidabile sta cosa. Ha! Ma vorrei non posso continuare a farlo? Ha! 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 Aiuto! Fermati! No, no, no! Corri! Oi! No! Fottiti. Ma davvero È quello che si deve fare in una gara, idiota Tiè Me ne vado al traguardo così Che hanno assunto per fare il telecronista? Questo gioco è la vita!